Il Partito Democratico deve cambiare cercando di avere il coraggio di navigare in mani aperto, parlare a tutti gli italiani, portare avanti le proprie proposte, le proprie idee con programmi credibili e con candidati che li incarnino in maniera chiara. Abbiamo sfide importanti in Lombardia, anche in comuni che possono sembrare più piccoli ma che sono altrettanto importanti perché parliamo della Lombardia più profonda in cui possiamo misurare la capacità del Partito Democratico di cogliere le speranze e le attese dei cittadini. Anche a Treviglio avremo una sfida elettorale importante, io auguro a Eric Molteni di fare una bella campagna elettorale parlando dei problemi di Treviglio, incontrando i trevigliesi e chiedendo ai trevigliesi di fidarsi di noi. Eric è una persona che ha valori, che ha capacità, che ha competenza, potrà essere un buon sindaco per questa città insieme alla sua squadra e io credo che possa costruire cinque anni di buon governo per Treviglio.